Ed eccoci ancora con la parabola del disagiato che vuol fare del disagio il punto di forza, la retorica della diversità, se lo tatua nel petto, è lui quello che è e via dicendo. Ormai cose che in questa edizione abbiamo già visto e rivisto, comunque soffroniamoci sul ragazzo perché purtroppo vado sempre a criticare questo aspetto del programma, fa parte del programma e quindi di conseguenza non devono rimetterci i singoli ragazzi che vado a recensire. Partiamo dal presupposto, questo lotto, L8, il nome è molto interessante perché lotto nel senso di lottare, lotto nel senso il numero, lotto nel senso il lotto, comunque vabbè a me non piacciono nel rap le cose teatrali, si parietti, li detesto, veramente mi danno proprio un fastidio, quindi lui è partito standomi un po' sul cazzo, mettiamola così, anche se il si parietto era ben fatto. Ma ho subito capito già da lì che si muoveva bene, non è facile a fare queste cose, forse è per questo che non mi piacciono perché veramente sono difficilissime, poi quando è esploso non mi ha fatto impazzire e non mi ha impressionato minimamente. Però oltre al fatto che, devo dire che ha gestito bene la voce, cioè non è andato puramente di gola, che ti spacchi la gola, gestita veramente bene, complimenti. Ma devo ammettere che ha avuto coraggio a portare uno show di questo genere e l'ha saputo mantenere, perché un conto è avere coraggio e poi tirarsi indietro e non farlo bene, un conto invece è portare sta roba e poi portarla fino in fondo, come ha fatto lui. È stato originale per un contesto televisivo, ma sì, come Raton, a me personalmente non mi ha colpito, perché so da chi ha preso spunto, sembra un po' Leon Faun, roba di sto genere, ce ne sono tanti. E a me non mi piace sta roba, ma non mi piace proprio, ma veramente, però l'ha fatta bene, è stato credibile, leggiadro, questo è l'aggettivo giusto, impossibile non farlo passare, pur non piacendomi minimamente. Però non mi piace la retorica, cioè adesso voglio che lui, come tutti gli artisti di questi talent, portino musica e roba in un certo modo, perché veramente, cioè adesso subito dopo di lui c'è stata la ragazza in sovrappeso che si sa vestire bene, con colore, perché si è sempre sentita diversa, cioè pamper focaccia di questa edizione, la sagra di chi si sente sbagliato e deve ripartire con la musica, cioè sembra che stiamo a fare pena la gente. Ovviamente, veramente ragazzi, mi infastidisce molto questo atteggiamento, quindi spero che lui non ci riproponga troppo il fatto di come si sente, ma porti buona musica, perché comunque il pezzo in sé per sé, cioè ci siamo soffermati sull'interpretazione, su di lui ci siamo soffermati, e non sul pezzo, e questo va bene se devi passare un provino, però poi se devi essere un artista, devi essere un artista, bisogna soffermarsi sul pezzo più che su di te, quindi diciamo che vediamo cosa farà la prossima volta, comunque lui è forte, forte, bravissimo, nulla da ridire su di lui, assolutamente, semplicemente non mi piace sta roba, è proprio un genere di rap che disgusto, mi disgusta proprio.